Anche quest'anno Piazza Castello a Torino sarà teatro del tradizionale concerto del 25 aprile in occasione della Festa Nazionale della Liberazione. A partire dalle ore 16 si alterneranno sul palco artisti, testimoni dell'epoca, studenti delle scuole superiori per una giornata di musica e letture per ricordare i valori che stanno alla base della Costituzione e della Repubblica. Si esibiranno tra gli altri Paola Turci, Angelo Branduardi e Teresa Desio.